ciao a tutti bentornati sul canale oggi voglio farvi vedere dei trickle per vedere se vi piacciono così ne faccio altri quindi lasciatemi un bel like iscrivetevi al canale e lasciatemi un commentino vi farò vedere alcuni dei trickle che amo di più sono pochi quindi lasciatemi un bel pollice in modo tale che poi ve ne faccio tanti altri trickle il primo che amo è questo qui quindi adesso rilassate la mente e ascoltate soltanto i miei trickle a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non sono molto precisa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ora lasciatevi salutare dalla mia Barbie. Ma come sei bella questa mattina. Ma che bella che sei. Dobbiamo pettinare un po' questi capelli. Ma come sei bella. Ho messo anche un vestito elegante. E tapparlo. Ma che bella. Ma che bella Barbie. Saluto a tutti. Ci vediamo nel prossimo video. Bye.